Pronto? Capitalismo? Sono le tre di notte. Scusa, dovevo chiederti una cosa. Che c'è? Ma tu mi ami ancora? Ah, non ricominciamo. Perché questa mattina stavo in metro ed eravamo tutti pendolari, tutti accalcati, ammassati. E ho pensato, io qua sto andando a far funzionare un sistema che magari manco mi pensa. Ma certo che ti penso, tesoro. Sempre, sempre, sempre. E invece io non mi sento amato. Guardo le notizie e non mi sento amato. Ascolto i miei coetanei e non mi sento amato. Penso al futuro, al nostro futuro. E non mi sento per niente amato. Ma cuore mio, ma certo che ti amo. Te lo dico sempre che ti amo. Che senza di te, tortino di ricotta, crolla tutto. Tutto cosa? Il sistema benessere. Ma se la stabilità di tutto il sistema dipende dal fatto che io mi rovini la vita per tenerlo in piedi, questo benessere per chi è? Ho capito. Vuoi la macchina? E ci pigliamo la macchina. Adesso cerco una bella concessionaria. Ma non è questo il punto. Vuoi un cellulare nuovo? Un tubo di Pringles? Cartucce per la stampante? Una mignotta? Non ti posso aiutare se non mi dai qualche indizio. Mi pare che ai tuoi occhi io sia soltanto uno stronzo qualunque che deve lavorare e consumare finché non va in pensione e poi sbrigarsi a morire il più velocemente possibile. Ma chi ti ha messo in testa certe idee? Hai parlato di nuovo con Chomsky? Ha 90 anni, è matto, piscia nelle siepi. Manco lui sa quello che dice. Dai, adesso vengo là e ti faccio un pompino mentre riempi il carrello Amazon. Vorrei solo capire se dopo tutti questi anni c'è ancora qualcosa che ci tiene uniti. Ma certo che c'è, fragolina di bosco. L'amore? Il mutuo. Ma anche l'amore, sì, perché no? Senti, quando ci siamo messi insieme sapevi che tipo ero. Sbarazzino, competitivo, naturalmente portato per le disuguaglianze sociali e la meritocrazia di carta pesta. E nonostante questo siamo stati felici. Le vacanze, il Natale, i Black Friday. Quella volta che hai comprato lo smartwatch, che per sbaglio te ne hanno mandati due, ne hai rivenduto uno. Ti ci sei pagato l'elmo di Darth Vader che fa i popcorn e ti sei sentito come Warren Buffett. Ma sì, ci sono stati bei momenti, non lo nego. Ma prima con la crisi economica, poi con la pandemia. Più si va avanti e più ho l'impressione che non te ne freghi assolutamente niente della mia felicità o della mia salute. Ma esclusivamente del mio tempo. Che io sia solo un... Com'è che mi chiami durante il sesso? Asset. Appunto, un asset. Una risorsa economica. Ma fiorellino di pasta frolla, non dire così. Ogni tanto magari può sembrare che io ti trascuri, ma ti assicuro che ai miei occhi, tu sei unico e importante. Come mi chiamo? Eh? Qual è il mio nome? Eh, IT96W. Quello è il mio IBAN. Ah sì? Ma pensavi che mi chiamassi IT96W? Pensavo che i tuoi fossero fan di Star Wars. Dai, lo vedi pure te che sta cosa non funziona più. Per qualcuno funziona. Per l'1% della popolazione mondiale. Con cui faccio un gran sesso bavoso. Senti, io ti ho reso felice, non puoi negarlo. Mi sono sempre sforzato di capirti, di assecondare le tue necessità. Ogni tanto finisco le tue frasi, anticipo i tuoi desideri. Ti ricordi quando ti ho suggerito che una televisione più grande avrebbe migliorato la tua vita? E cosa è successo? Non ha migliorato la mia vita. Ma per un po' hai pensato di sì. Questo è stare con me. Vivere il sogno. Io non ho mai scelto di stare con te. Tu scegli di stare con me ogni volta che fai la spesa. Magari dovrei iniziare a vedere altre persone. Bravo, bene. E sentiamo chi vorresti vedere. Non lo so. Magari il socialismo? Non ha mai funzionato fra voi. Poteva. Ma se ci sei stato un anno al liceo e l'avete passato a litigare. Poi ti sei comprato un paio di Nike e tanti saluti all'amore della tua vita. Potrei provare a uscire col neoliberismo. Sì. A quello piacciono solo alti, biondi e scandinavi. Te pare il ragazzetto di The Millionaire. Ma quanto ti si fila? Dai. A questo punto perché non il baratto? Tornate con quel monosillabico ritardato e costruitevi una casa di fango in Mesopotamia. Dai. Abbassa le tue ambizioni. Annulla le aspettative verso il futuro. Tempo due giorni e tornerai strisciando al primo banco, Matt. Potrei decidere di stare un po' da solo. Ma sentitelo. Vuole fare la rivoluzione dal divano di casa. Ho abituato il tuo culo alla carta doppio velo. Quanto credi di poter resistere lì fuori? Ho paura che tu mi abbia fatto dimenticare delle cose importanti. Che tu mi abbia reso peggiore. Risparmiami queste pippe da centro sociale. Io ti ho dato tutto quello che hai. La casa, il riscaldamento, le bibite gassate. Quella piacevole sensazione che provi quando fai un check out. Ho fatto in modo che potessi pubblicare due libri e persino venderli. Dal primo mercatino dell'usato a otto anni fino all'ultimo bonifico bancario. Io ti ho reso felice. E se non l'ho fatto, ti ho indicato la strada per esserlo. Ma non è per questo che tu non mi lascerai. Tu non mi lascerai perché non hai alternative. Lo capisci o no? Io e te staremo insieme fino alla fine. E ringrazio a Dio di non avere dei figli da mantenere. Altrimenti non ti darei neppure il tempo di farti questi problemi da fighetto. Scusami, non volevo alzare la voce. È che certe volte sei davvero irragionevole. Ascolta, ecco cosa facciamo. Domani ci prendiamo un'oretta tutta per noi. Accendiamo due candele, creiamo un po' d'atmosfera e ci preordiniamo la PlayStation 5. Quella col drive ottico? Certo, crostatina al miele. Te la meriti. Adesso però va a dormire che domani lavori. Buonanotte. Oh, e mi raccomando, occhio sulla metro.